Il governo non c'entra niente, è importante essere più oggi, è una persona di 19 anni che muore senza nessuna responsabilità, io sono giornalista, conosco Paola Di Caro, il marito da tanti anni. È ammirevole comunque che dopo il giuramento siete riusciti a essere qua presenti, è un grande segnale. Ma non è un fatto politico, perché sono un padre di famiglia, immagino lo strazio, nella mia famiglia abbiamo avuto lo stesso dramma. Verrà anche presente il Consiglio? Ma non è una cosa politica, è una politica.